Musica 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 oggi è in la finale va bene, va malo non è giusto, è normale perché non è stato il momento Dice che non è stato il momento può essere che sia il momento perché? perché ho fatto un pacto con Dio Dio, dalle le migliori dalle me le migliori grazie ai giorni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ho fatto che ho fatto bene e stiamo perciando perciano Grazie a tutti. Grazie a tutti.